Contro lo Spezia per un'altra gara ostica, per provare a fare un'altra ottima partita e per continuare sul percorso che stiamo avendo ultimamente. Anche qui conosciamo gli avversari, avevamo preparato questa gara qualche tempo fa, purtroppo non si è potuta disputare e ora abbiamo questo jolly sia noi che loro a metà settimana da poter usufruire e cercheremo in tutte le maniere di portarlo al nostro favore. La nostra qualità all'inizio, durante e che dovrà continuare ad essere, che a volte l'abbiamo tralasciata, è quella di avere equilibrio, che è la cosa più complicata da trovare perché nell'arco di un campionato grande, pieno di scontri difficili, sicuramente ci possono essere dei momenti positivi, sicuramente poi ci possono essere delle mazzate come quella che è capitata a noi domenica perché eravamo stati molto bravi a rimettere in piedi la partita, a portarla dalla nostra parte e non siamo stati altrettanto bravi nel saperla portare a termine. Però quello che fa parte del passato ci deve servire da esperienza e dobbiamo essere bravi a sapere usare le situazioni negative che ci sono capitate per non farle ricapitare e a partire dalla partita di domani provare in tutte le maniere a cercare di ottenere il risultato pieno, come abbiamo sempre cercato di fare. Io penso che ho sentito tante volte parlare di partite verità o di partite chiave o di partite cruciali, per me è ancora presto, mi auguro un giorno di poterne parlare anche io perché mi piacerà arrivare fra un po' di domenica a poter giocare delle partite chiave cruciali. Adesso sono delle partite importanti in cui noi vogliamo ottenere tre punti, ma anche gli avversari hanno voglia di ottenere questi tre punti, hanno delle ottime qualità perché stanno facendo un ottimo campionato. Sarà una partita difficile, non ho ancora ben chiaro come riusciremo a presentarci perché dobbiamo ancora fare l'allenamento, siamo stati insieme solo ieri e quindi voglio capire bene chi ha recuperato, chi ha le energie che servono per disputare una grande partita perché abbiamo bisogno di fare una grande partita. Ma io non parlo di turnover, io metto in campo la formazione che penso che può essere la migliore per affrontare lo Spezia. E Cristian fa parte dei 23 giocatori che ho a disposizione che potrà essere utilizzato a sinistra, a destra oppure potrà essere utilizzato anche in corso oppure potrà rifiatare per poi ritornare utile perché da lui come da tutti i suoi compagni, indipendentemente dalla posizione che occupano, mi aspetto molto di più rispetto a quello che abbiamo fatto nella partita scorsa. Sicuramente non credo che riscenderà in campo la stessa formazione che è scesa sabato, qualche cambio lo faremo, però ripeto voglio presentare in campo ragazzi che abbiano energia giusta fisica ma soprattutto mentale per poter rispondere alle qualità degli avversari che sono delle qualità importanti. Le qualità degli avversari le decantiamo ogni volta, a volte siamo anche stucchevoli perché diciamo spesso le stesse cose, ma in questo caso ovviamente e anche negli altri casi, le partite in questo campionato non sono mai scontate, ogni domenica ce ne rendiamo conto, a volte l'abbiamo subito a nostre spese, a volte siamo stati bravi ad invertire i pronostici iniziali perché dove non eravamo favoriti siamo stati bravi a sapere ottenere i tre punti, quindi c'è da fare partite piene, c'è da fare partite con grande intensità, ritmo dall'inizio alla fine, considerando che in campo si affrontano gli avversari quindi non sempre si può fare quello che si desidera, e quando c'è da difendersi c'è da farlo bene, come siamo stati in grado di fare per tanti tratti delle partite passate. Abbiamo giocato in tante maniere, tanti interpreti hanno occupato varie posizioni e invece voi spesso vi soffermate su pochi giocatori, ma per me è importante la squadra che è composta da tanti giocatori, quindi per tornare a Anderson a destra o a Galana a sinistra, sono stati proposti nel momento in cui eravamo in difficoltà perché poco prima avevamo finito in un momento di grande difficoltà con Galana a destra e in prota a sinistra, invece in quel momento pensavo fosse la scelta migliore riuscire a fare questo tipo di assetto, questo tipo di assetto ci ha portato a conquistare tre vittorie, domenica ci ha fatto sfiorare la quarta consecutiva che sarebbe stata la prima nell'arco di tutto il campionato, quindi credo che al di là delle qualità che possano essere espresse al 100%, al 50%, al 60%, siano indipendenti dal modulo o dal ruolo, ma molto dipendono da quanto tutti quanti riusciamo a mettere in campo e sappiamo benissimo che tutti possiamo mettere molto di più di quello che stiamo mettendo sempre. Quando riusciamo a diventare paroni del campo sicuramente nella zona offensiva con Javan non abbiamo la qualità che possiamo avere in altri interpreti del reparto offensivo, ovviamente quando si costruiscono le squadre non si fanno per far giocare bene un giocatore e poi il resto non conta niente, quando si costruiscono le squadre si fanno per cercare di ottenere dei risultati e noi ogni volta cerchiamo di farlo con questo obiettivo e poi voi giustamente vi soffermate più su uno o sull'altro, ma per me non è importante il singolo perché ho tanti singoli bravi, soprattutto quelli che adesso stanno giocando meno e che si stanno allenando molto bene e che sono convinto che avranno l'opportunità per essere protagonisti anche loro.